Ciao ragazzi, come state? Eccoci con una delle mie box preferite in assoluto. Si tratta della My Beauty Box. Oggi vi pubblico il video della box di aprile. No, dovrebbe essere sì, non quella di aprile, questa dovrebbe essere se non erro. Ne ho già girato i video anche delle altre box da partire da novembre. Però sapete che non ho avuto modo di caricare i video, quindi li caricherò ovviamente e li vedrete un po' indifferita rispetto al normale. Allora, perché mi piace questa box? Perché è una box economica. Ci sono dei prodotti ogni mese diversi e si tratta per lo più di prodotti make-up e skin care. Ma la cosa che mi piace è che vi permette di conoscere dei marchi, dei brand, che magari non conoscete. Appunto anche per me, che sono neofita di questo mondo del beauty, ho scoperto dei brand e dei prodotti veramente top. Ce n'è uno di cui proprio mi sono innamorata alla follia, che è il tonico micellare del Terme di Sirmione. Io veramente mi sto innamorando di tutti i prodotti delle Terme di Sirmione, cosa che proprio non sapevo neanche che esistesse. Ragazzi, veramente favoloso. Ma poi ne parleremo in un altro video. E come... niente, vi faccio vedere la box perché è inutile parlare adesso se non vedete. Allora, innanzitutto, questo mese ha questa bella copertina, chiamiamola copertina, verde con queste foglie bianche. Questa è scritta My Beauty Box. E poi c'è questa box nera. Ogni mese avete la box nera in cartone bello rigido, che io adoro perché ragazzi le sto tenendo tutte. Sono comodissime per mettere di tutto e di più dentro. Quindi, diciamo, non buttate via niente. Ecco, boh, se volete potete buttare via questo. Ma io taglierei anche dei quadratini per usarli nello scrub booking. Quindi, in fin dei conti, non si buttate via niente. Diciamola così. Apriamo perché... Cioè, sono troppo curiosa. Allora, ogni mese poi ci sono uno o due prodotti che potete scegliere di ricevere... Magari potete scegliere il colore o potete scegliere il prodotto. Ho due su... Per cinque, non mi ricordo. Allora, ho qua il... Sì, almeno cinque prodotti ci sono. Così dopo vi dico anche un po' i prezzi. Allora, apriamo. My Beauty Box Conscious Beauty. Allora, sì, questa appunto è quella del mese di aprile. Questo è il Depliando Valentano. Troviamo la spiegazione di tutti i prodotti. Ma vediamolo dopo. Ok. Allora, già abbiamo qualcosa con l'acido lianuronico. Che direi che è top. Hydra Essence Serum. Idratazione profonda, ridensificante e ripolpante. Quindi è un siero da day, quindi da utilizzare la mattina. Direi fantastico. Ultimamente sto adorando i sieri. Mi sto veramente... Cioè, mi sta proprio piacendo fare la skin care con tutti i vari step. Lo adoro. E mi piace che questo siero sia idratante. Abbia l'acido lianuronico. Poi comunque ha la vitamina, la provitamina B5. Quindi, scusate. Va, diciamo, proprio benissimo. Quindi, perfetto. Poi, c'è qualcosa che profuma la mente. Presumo che sia questo. Che è il... Il filo interdentale. Anzi, scusate. Questa marca Gold Collagen. Non l'ho mai sentita. Mai vista, mai sentita. Quindi non ho idea di... Vi faccio vedere anche l'interno. Non ho idea di come sia. Ma, come vi dicevo. È il bello di queste... Di queste box. È che vi danno la possibilità di provare prodotti anche costosi. E... E valutare... Uh, che bella. Ragazzi, guardate. Che bel pack. Wow. E... Vi dà appunto l'occasione di provare questi prodotti. Valutarli. È chiaro che se poi vi trovate bene. È più facile spendere anche 30-40 euro per un prodotto che vale. Piuttosto che magari spenderli in anticipo. Perché ve lo consigliano. Vi dicono che questo prodotto è super, super. Poi li spendete e dite... Uh, non mi ci trovo per niente. Quindi... Quindi no. Allora, dicevo appunto. Questo è il filet interdentale della marca Tepe. Non l'ho mai sentita questa marca. Quindi vabbè. Filet dentale. Easy. Poi abbiamo di Cargi Grillo Gianluca. C'è anche uno sconto Maggio Box. Compact Blush Refill. Ah, ok. Quindi è una cialda Refill. È un blush compatto in polvere ultra pigmentato con vitamina E, olio di jojoba e olio di argan. Vediamo. Allora, il colore sembra veramente bello. Proviamolo. Texture molto morbida. Allora, sì. Effettivamente è super pigmentato. Quindi bisogna assolutissimamente sfumare. E prenderne poco, direi. Però è veramente bello. Molto, molto bello, sì. Veramente molto bello. Non ha nessun tipo di odore. O di profumazione, mettiamola così. Veramente molto bello. Sì. Approvato, approvato. Onestamente, ragazzi, non mi ricordo cosa ho scelto di queste cose. Cioè, mi verrebbe da dire che non ho scelto niente. Eppure qualcosa devo aver scelto. Sono sicura di aver scelto qualcosa. Ma non mi viene in mente nulla. Poi, cosa abbiamo qua? Un panno con Jack Face Lot. Allora, sono qui panni proprio rigidi. È Pur Bio for Skin. La, come si chiama? Armofofallus konjac. È una pianta originale della Cina e del sud-est asiatico. Che cresce ad altitudini elevate. In un ambiente montano incontaminato. Il panno con Jack è ricavato dalla radice della pianta. Modo d'uso. Ammorbidire il panno immergendo in acqua tiepida per 3-5 minuti. Rimuovere l'eccesso di acqua. Premendo il panno deliticamente fra le mani. Quindi, massaggiare il viso con movimenti circolari. Utilizzando il panno da solo. Con l'aiuto di sapone e detergente neutro. Dopo l'uso, risciacquare il panno con acqua calda. Strizzare con cura e lasciarlo asciugare appeso. O disteso in un luogo fresco, asciutto e arreggiato. Ok. Quindi, diciamo, è al posto, insomma, del panno che si usa. Cioè, un aiuto in più per la pulizia del viso, dirai. Non li ho mai acquistati, devo essere sincera. Forse perché magari avevano anche un prezzo un po' elevato. Ma quindi non li ho mai acquistati. Sono sincera. Poi abbiamo quest'altro prodotto. E poi abbiamo questi... Di fili zizzaganti. Che si possono anche riutilizzare per imballare altre cose da spedire. Tipo le vendite su Vinted. Ah, questo forse l'ho scelto io, sapete. Adesso mi viene in mente. Mi viene in mente, adesso. Adesso mi viene in mente. Allora, è super imballato bene. Tant'è che non so neanche da che parte aprirlo. Perciò, anzi, niente, bugia. Ho trovato lo scotch. Mamma mia, che profumo. Allora, c'erano due tipologie di profumo che poi comunque ci fanno vedere nel De Piano, insomma. Nel foglio illustrativo che vi ho fatto vedere prima. Allora, questo è un profumo. Una Eudetelette Coco Monoi. E niente. Pack. Semplice. Molto semplice. Mi piace tantissimo il colore del tappo. E il profumo è veramente qualcosa di particolare. Qui, ragazzi, secondo voi è successo qualcosa? O è fatto proprio così? Non lo so. Voi che dite? Cioè, vedete? Questa... Questa parte così è un po' strana. Come se ci fosse finita dell'acqua. Non lo so. Allora, provo un attimo. Allora. A sentirlo. Buono. Allora, è sicuramente... Stavo per farvi vedere così. Sentite anche voi. È veramente una profumazione molto estiva. Dolce. Non è male. Allora, a me tendenzialmente i profumi dolci non piacciono. Io preferisco più le cose fresche. E tra le due che si potevano scegliere, questo forse era quello che mi poteva piacere di più. Ma adesso, bando le ciance, andiamo a vedere il nostro depian, il nostro volantino. Allora. Abbiamo. Prima cosa ci parla di Puro Bio Cosmetics, del panno Konjac. Completamente naturale, realizzato con radici di Konjac, dalla trama extrafine. Le fibre naturalmente alcaline aiutano a rimuovere l'impurità e l'eccesso di olio dalla pelle, bilanciandone il pH. Ideale per la pulizia di tutti i tipi di pelle, anche le più delicate. Ecco, devo dire che questo spiega molto meglio rispetto a quello che abbiamo letto prima. Dettagli. Poi, nella box ha scelta solo uno di questi due profumi. Ecco, quindi potevo scegliere tra il Kokomoi Kokomo Noi, che è quello che ho scelto, oppure il Kokomo Noi Elei Sunset. Quello che ho scelto io è una fragranza iconica di tutta la linea, ispirata all'atmosfera suggestiva dalla Polinesia. Le note di questo profumo avvolgono grazie a un cocktail di cocco e fiori di tiaree, che si fondono con un cuore di muguetto e rosa e un fondo di muschi e vaniglia. Mentre l'altro, fragranza ispirata ai tramonti californiani di Los Angeles. Le note di questo profumo avvolgono grazie a un cocktail di bergamotto e ananas, che si fonde con un accordo solare e yinlang e un fondo di muschi e cashmere. Ma sapete che forse io avevo scelto questo? Adesso mi viene il dubbio, perché a me piace l'ananas. Quindi, anche il bergamotto... Boh, magari non era più disponibile, perché se non è più disponibile, non vi inviano quello che avete scelto, insomma. Vi danno la possibilità, però, sempre nella possibilità, insomma. Ok, allora, poi vediamo Tepe Dental Floss, privo di PFAS, leggermente cerato e bevuto di olio di avocado. Il filo espandibile Tepe permette una pulizia interdentale efficace e piacevole, per il risultato fresco e mentolato. Si usa di solito in completamento agli scovolini, quando gli spazi interdentali sono più stretti. Realizzato al 100% con bottiglie di plastica riciclate, ottimo. Contenitore realizzato con materiale riciclato, ottimo. Packaging in carta FSC 100% riciclabile, quindi ottimo. E queste, ragazzi, per il momento sono tutte full size. Poi, avevamo un'altra scelta. Il Gold Collagen, nella box, ha scelta solo uno di questi tre si è riviso. Quindi c'era l'Hydra Essence Serum, che è quello che ho scelto io, l'Istant Glow Serum e il Night Renewal Serum. E io ho scelto appunto quello di idratazione, perché la mia pelle ha più bisogno di idratazione. Sempre una full size da 30 ml, migliore naturale processo di riparazione della pelle, previene la perdita di idratazione per tutto il giorno. Con otto tipi di acido ierononico per fornire un'idratazione profonda e provitamina B5, pantenolo, per rendere la pelle idratata, elastica e tonica. Ottimo, ottimo. E poi c'era la scelta, che si poteva scegliere, o il refill dell'ombretto, o il refill del blush. Quindi io ho scelto quello del blush, dell'appunto Kergy Cosmetic Grillo Gianluca. Il blush compatto in polvere, ultra pigmentato, in formato refill, da inserire nella nostra palette componibile, che vabbè, non ce l'ho. Con vitamina E, olio di jojoba e olio di argan, disponibile in quattro colorazioni, quindi diciamo che la scelta che ho fatto è stata veramente top. Poi, dai una svolta alla tua skin care routine, con il protocollo In and Out by Gold Collagen. Approfitta del 20% di scotto sui prodotti Gold Collagen e rallenta i segni del tempo, agendo dall'interno con gli integratori e il collagene, ok, e dall'esterno con i prodotti skin care. Quindi devo dire, sinceramente sono molto contenta che abbiano scelto un prodotto skin care piuttosto che un integratore, perché dovete sapere che in questa box ci sono anche... c'è la possibilità che mettono all'interno anche degli integratori. Una volta mi è andata benissimo, mi sono trovata molto bene con un integratore, la seconda volta, ragazzi, è stato pessimo, pessimo, infatti non sono riuscita a continuarlo, perché è proprio stato pessimo. Comunque, codice promo. E finiamo con... Cara My Beauty Girl, il mese di aprile è dedicato alla salvaguardia della terra e alla sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente. Scegli di essere parte attiva del cambiamento e adotta gesti beauty più responsabili con i prodotti di Conscious Beauty, l'esclusivo cofanetto di aprile del valore di oltre 80 euro. Condividi con noi foto e video su tutti i social, utilizzi usando l'hashtag e tag, papapapapà. E poi, vabbè, ci dicono se è curioso di scoprire cosa c'è nella prossima box. Allora, parliamo un po' anche di costi, penso che questa cosa vi possa interessare. Allora, i costi. Potete fare l'abbonamento mensile, quindi un mese, ovviamente rinnovabile, a 19 euro. Oppure, trimestrale, pagando 54 euro in totale. Poi c'è il semestrale, che viene 102 euro, quindi andate a pagare 17 euro a box. Più ci sono altri vantaggi. Io non ho mai... finora non sono mai riuscita a fare quella da sei, ho sempre fatto quella da tre. Ma perché ogni tot vi arrivano anche delle promozioni dove costa anche meno. E poi c'è l'annuale, che costa 180 euro. E praticamente pagate 15 euro a box, più i vari vantaggi, insomma. Utilizzando il codice, che vi metto appunto qui e poi giù in descrizione, potete avere il 10% di sconto sull'acquisto di qualsiasi tipologia di abbonamento. E io riceverò invece 100 punti, che equivalgono a un euro di sconto sul prossimo abbonamento che farò. Qui, insomma, qualcosina anche a me arriva. Che dire, allora, io vi straconsiglio di provarla. Anche fare solo un mese, perché... Cioè, vale. Vale, vale, vale. Di questa box sono molto contenta di questo. Decisamente contenta, non vedo l'ora di provarlo. Sono molto contenta anche del blush. Mi piace molto. Vabbè, questo ci sta da provare, insomma. È sempre qualcosa che è comodo avere. Mettiamola così. Il profumo, adesso che è passato anche un po' di tempo, devo dire che è molto delicato, non è invasivo. E questo per me vuol dire tanto, perché appunto non mi piace tanto mettere profumi. Quindi lo trovo molto delicato. Adesso sta quasi un po' scemando. Devo essere sincera. Però non è male. Anche se forse avrei preferito quello all'ananas. E sono curiosa di provare questo panno con jacques. Veramente non l'ho mai provato. Quindi, come vi dicevo, sono proprio delle novità da provare. Magari voi le conoscete. Magari no. Però sono cose nuove che... Che mi possono stupire. Sono sincera, perché a me hanno stupito diverse volte. Bene ragazzi. Quindi per questo video è tutto. Ditemi se questa tipologia di video vi piace. Insomma, scrivetemelo giù nei commenti. A breve caricherò anche le altre box. E vedrete che c'è sempre qualcosa di super super wow. Quindi vi consiglio di provare almeno un mese l'abbonamento. E ricordatevi di utilizzare il mio codice. Please. Bene. Quindi per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che è gratis. E niente. Un bel pollicione in su. E ci vediamo al prossimo video. Non mancate. Ciao. Ciao.